Eccoci qua da Indiana Jones e qua abbiamo Marion Rosenwood e stiamo facendo una tapas qua al Barracca che fa delle cose supreme, che ha drink da fuoco e guarda che bello, sembra neanche essere in Italia, infatti siamo a Villa Frankl ed è meno Italia di quello che sappiamo noi. Qua ci sono le entrées, queste sono le entrées o come si può dire. La mousse-bousse, è la mousse-bousse, che è salsa di oli, che è free, salsa di oli spagnola con le olive spagnole e noi facciamo con le bruschette all'aglio, è una grande, l'oliva qua e poi vediamo cosa sarà di 80 anni, sarà una bella caraccia di Missangria e noi ci vediamo al prossimo video per aggiornarsi. ricordatevi di Barracca e della Franca.